Negli anni ho visto tante ragazze macchiarsi e un aumento del disagio che ne scaturisce il fatto che è importante e quindi questo tende a diminuire il disagio, quindi andare incontro ad una problematica che è reale, un po' come accompagnare la ragazza, bambina la definirei a 12 anni, nel suo percorso adolescenziale. Assorbenti gratuiti nei bagni delle scuole e a retine, questa la proposta avanzata da Fratelli d'Italia al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e alla giunta per l'installazione di dispenser negli istituti secondari di primo grado e nelle superiori. È una nostra battaglia che portiamo avanti, tanto è vero che il governo Meloni subito dopo l'insediamento ha ridotto l'IVA dal 10% al 5% e negli anni, nel futuro, si prevede di azzerare, di abbattere l'IVA per i dispositivi di protezione per l'igiene femminile. Lì è stato fatto un passo avanti e ne vado fiero. Abbiamo fatto questo primo passo ad Arezzo, che spero si realizzi nel minor tempo possibile, per poi promuoverlo attraverso i nostri deputati e senatori. La richiesta sarà allargata anche alla provincia di Arezzo per le scuole gestite dall'ente. Ed è proprio lì che è stata presentata questa problematica, anche se in età, dai 15 anni in su, dove si affrontano le scuole superiori, risulta tutto molto più semplice, perché il ciclo inizia a regolarizzarsi, il disagio iniziamo a viverlo in maniera diversa, per cui, sì, comunque estenderemo la nostra proposta anche alle scuole superiori.